Ci troviamo a Montecaccio, come potete vedere c'è già una fitta nevicata, neve, lo scenario è già imbiancato, cominciano naturalmente anche i disagi e la massima attenzione soprattutto sulle strade e sulle strade interne. Il paesaggio è di quelli in mozzafiato ed affascina sempre di tutto l'anno solare, ma d'inverno e con le rigide temperature, magari con una spruzzata di neve come in questi giorni assume un fascino tutto particolare e l'Alta Murgia, ricompresa tra i comuni di Andia, Minervino e Spinazzola, dove la neve ha già fatto capolino e le rigide temperature preoccupano più che altro per le strade interne percorse da cettinaia di autovetture e poi il Castel del Monte, non ancora innevato, ma sempre in basso di turisti, anche con le rigide temperature ed anche nei giorni di fine d'inizio anno, fine 2016, che si preannuncia rigido per le temperature con una minima che si aggirerà attorno allo zero ed anche più in basso ed un avviso di preallerta su tutta la regione Puglia per venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca e mareggiate sulle coste esposte, nevicate anche a bassa quota anche se non sono previste particolari precipitazioni piovose. L'allerta delle singole prefetture invece sarà tutta concentrata sulle arterie stradali con possibili ghiacciate notturne che creano non poche problematiche agli automobilisti. Al di là dello scenario mozzafiato, insomma, massima prudenza sulle strade. Da Andrea per News24.it Stefano Massaro